Centinaia di pezzi sequestrati, tutti rigorosamente a marchio contraffatto, è il bottino dei controlli messi in atto dalla Polizia Municipale di Forte dei Marmi nella sola settimana di ferragosto che si conferma la più intensa dell'anno sul fronte sicurezza e controlli. La spiaggia e le vie del centro restano le piazze migliori per vendere e quindi sequestrare la merce falsificata. In tutto circa 670 articoli raccolti dai vigili urbani in diverse operazioni, ma in particolare sono 131 i pezzi di prodotti di note griff falsificati fra borse e accessori Louis Vuitton, Gucci, Fendi, Prada, Hermès ma anche Valentino, Dior e Chanel. Fra i prodotti sequestrati è anche un orologio con le sembianze di un Patek Philippa Quannot il cui valore di mercato, nella versione originale, sfiora i 70.000 euro e che pare essere piazzato sul mercato del falso ad una cifra che si aggira intorno ai 1.000 euro. E con il finire dell'estate spuntano già anche i primi più mini Moncler, ovviamente a marchio taroccato. Ma fra i pezzi scovati dalla municipale, nella zona del mercato, anche numerosi ombrelli e borse senza marchio e poste sotto sequestro, in questo caso solo amministrativo.